Ciao a tutti amici e amiche creative, bentornati in un nuovo video dedicato allo spacchettamento di nuovi materiali creativi. In questo periodo vedrete tanti altri video spacchettamenti perché, visto che il periodo di Natale si avvicina per sicurezza, cerco di acquistare il tutto un po' prima in modo che per i primi di dicembre comunque riesco a ricevere i pacchettini, speriamo. Quindi nei prossimi video ne vedrete anche altri, questo materiale l'ho preso sul sito nbeads.com Vi lascio l'anteprima del sito web sul video così potrete rendervi conto qual è il sito ma tanto sicuramente lo conoscerete anche voi perché è un sito famosissimo che vende materiale creativo. Allora, come vedete il pacco è super super ben imballato, quindi mi munisco di forbici e apriamo tutto quanto insieme. Ok, quindi queste sono le cugine. Allora, faccio un po' d'ordine se no non ci capiamo nulla. Sono sei tipi di washi tape. Io da tantissimo tempo che non acquistavo dei washi tape e mi servono tantissimo per i lavori di scrapbooking. Questi sono tutti carinissimi, sono kawaii... no vabbè, sono troppo carini. Il kit era composto da sei pezzi, quindi questi ve li danno random, però dovrebbero essere tutti di tipi diversi. Guardate quanto sono carini questi washi tape. li ho tutti tolti dalle confezioni e sono super super carinissimi. No, li adoro, veramente li adoro. Guardate questi che carini, sono super kawaii. No, veramente bellissimi, bellissimi. Poi, ho pescato questa bustina che contiene diversi stampini per la resina. Ebbene sì, sapete che... Ah no, aspettate, qui c'è una fustellina. No, vabbè, però è minuscola. Ero convinta fosse più grande. No, vabbè, questa è colpa mia che non leggo le dimensioni delle cose. Però ero convinta fosse molto molto più grande. Allora, questa fustellina serve per fare una lanternina. Molto molto lina. Pensavo fossi all'incirca una cosa del genere per creare una linterna grande. Invece no. È una lanternina piccolina. Vabbè, a questo punto ci sta comunque una mini candelina all'interno, credo, eh. Vabbè, lo scopriremo nei prossimi tutorial. Quindi questa più che altro può essere un'idea per realizzare delle mini lanternine per bomboniere di battesimi, cresime, comunioni, matrimoni, eccetera, eccetera. E vabbè, dai, non importa. È comunque carina. Poi nei prossimi tutorial vi farò vedere il risultato. Poi, come vi dicevo prima, non ho resistito e ho preso alcuni stampini per la resina. Come, ad esempio, questo qui. Allora, che carino! Io voglio lavorare con la resina perché non mi piace dover messiare i vari materiali tossici, eccetera, eccetera. Poi aspettare i tempi di asciugatura. Però, come ho visto questi stampini, non ho resistito e li ho presi subito. Questi credevo fossero più grandi, però sono contentissima che in realtà sono piccolini. Allora, qui abbiamo dei joystick. Quindi sì, veramente carinissimo. Non vedo l'ora di provarlo. Poi, ecco. Questo ero convinta che in realtà fosse piccolino e invece è gigantesco. È una sorta di tamagotchi a forma di topolino. Quanti di voi in casa hanno mai giocato col tamagotchi? Io lo adoravo. Lo adoravo e quindi anche questo, per la memoria dei bei tempi, ho preso il tamagotchi a forma di topolino. E ho preso anche il tamagotchi della forma classica. Questo è un pochino più piccolo rispetto all'altro. Che carini. Ecco, forse il mio tamagotchi aveva questa dimensione. Quindi siamo lì. Che carini. Poi, altro stampino super kawaii. Questo ero convinta fosse un pochino più lungo. Ed è un segnalibro a forma di orsetto. Guardate che carino. Farò tantissimi, tantissimi segnalibri. E poi, ultimo ma non per importanza, abbiamo... Ecco, anche questo ritrae una sorta di Game Boy, di comunque videogioco portatile. Anche questo super super carino. Quindi, tutti questi stampini li voglio utilizzare ovviamente con la resina. Vabbè, si potrebbero utilizzare anche con il DAS. Però, essendo troppo morbidi, non è appunto l'ideale. Ho pescato gli ultimi due cosine. Allora, questo è un foglio effetto lavagna. Potete tagliare delle piccole etichette che poi, ad esempio, potete incollare su dei barattolini. Che poi, in realtà, questo foglio dovrebbe già essere adesivo. Sì, è super adesivo. Io non so se sia stacca-stacca, però... Voi ritagliate le varie etichette e con il gessetto o un pennarello che è appunto cancellabile, potete scrivere ciò che ci sta all'interno del barattolino. Pensavo fosse molto più grande, però Silvia e le misure non vanno d'accordo, perché ovviamente, come avete ben capito dal video, non mi sono tanto fermata a controllare bene le misure, eppure c'erano specificate. Quindi, questo è un unico foglio, un foglio lavagna, poi ovviamente lo proveremo insieme. E poi, ultima cosina, che non mi ricordo assolutamente che cos'è. Allora, vediamo subito... Ah, ok, ora mi ricordo! Allora, sono degli anellini che servono per creare delle mini agendine, mini quadernini per lo scrapbooking, ecco, si aprono in questo modo. Ah, ok, pensavo che si aprissero tutti quanti in contemporanea, no, e invece no. E quindi, niente, sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci pezzi. Quindi, potrò realizzare quadernini, agendine, li ho presi perché, appunto, volevo realizzare dei quadernini per Natale da regalare, oppure anche per me stessa, che poi potete realizzare sia dei quadernini piccoli utilizzando solamente uno di questi, oppure potrete realizzare delle agende, dei quaderni più grandi utilizzandone due, o anche tre. Quindi, alla fine, sì, esce un bel quaderno grande. E quindi, questi erano tutti i materiali creativi che io ho preso sul sito nbeads.com. Non vedevo allora che arrivassero, perché io sono super innamorata di questi washi tape, e poi volevo un po' creare qualcosa di particolare con la resina. Ho visto questi stampini, me ne sono innamorata, e li ho presi subito. E poi non vedo allora anche di provare la fustellina per le lanternine. E quindi, questo era tutto il materiale che ho preso. Fatemi sapere qual è il materiale che vi incuriosisce di più, che vi piace di più, e che quindi siete curiose di vedere per primo nei miei prossimi video. Io spero di avervi fatto un pochino di compagnia con questo mio video. Io vi ringrazio per la visione, vi ringrazio tantissimo per voi che mi seguite ogni volta. Io vi mando un super abbraccio, e noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!